attraversato il nilo siamo sulla sponda occidentale quella delle sepolture la stessa disposizione delle sfingi per esempio quelle di Giza la capitale è a Luxor antica Tebe alto Egitto i faraoni delle dinastie dalla diciottesima alla ventesima dinastia circa 500 anni scelsero sepolture meno impegnative scavate direttamente nella roccia più lavorabile come in queste valli desertiche alluvionali l'esistenza della necropoli cade in oblio dopo lo spostamento della capitale nel basso Egitto solo a partire dal 1800 il sito divenne di interesse degli archeologi ma anche di molti razziatori qui sono classificate con la sigla KV Kings Valley 65 tombe le tombe cambiano architettura nel tempo a seconda delle dinastie le profondità sono diverse quindi anche il percorso dall'ingresso fino al sarcofago in genere è previsto un'entrata il santuario la sala di attesa la sala colonnata ed infine la sala funeraria con il sarcofago visitiamo alcune tombe esemplari a Grazie a tutti. La pietra calcarea si è prestata bene allo scavo con i mezzi di 3500 anni fa. Le pareti lisce sono state molto facili da scolpire e disegnare. La pietra calcarea si è prestata bene. La pietra calcarea si è prestata bene. Il dio Keper, sinonimo del dio Ra, il sole. Ogni giorno, spingendo la sua palla, riporta il sole. La tomba è lunga 120 metri e scende per 64 metri. La pietra calcarea si è prestata bene. 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 Un groviglio familiare. Fu nipote, figlia, sposa, matrigna di Faraoni. Hatshepsut era figlia del faraone Tumose I, moglie di Tumose II, suo fratellastro, zia di Tumose III, figlio del marito, che aveva appena due anni quando salì al trono. Hatshepsut divenne sovrana reggente. Con la complicità degli alti sacerdoti e travestendosi da maschio, tenne la carica di faraone fino alla morte. È da considerarsi come uno dei migliori faraoni. Tumose III, che era stato allontanato per anni in missione di guerra, quando prese i poteri effettivi dopo la morte di Hatshepsut, si dedicò alla cancellazione delle rappresentazioni figurative della regina, che ebbe anche trasferimenti di tomba nella valle dei re. Alti 18 metri rappresentano il faraone Amenhotep III, 1500 a.C. Si trovano anch'essi sulla riva occidentale del Nilo, nella zona della valle dei re. Volgono il viso al solo esorgente. La loro funzione era di fare la guardia al tempio dei milioni di anni, dedicato alla conferma della divinità dei faraoni e per il loro culto. Il più grande è il più grande tempio d'Egitto, ma a parte i colossi restano poche testimonianze perché sommerso dalle alluvioni del Nilo.